buonasera a tutti ci troviamo qua al centro sociale centro raccolta delle nozioni dell'associazione amici via navarra abbiamo aperto le porte stasera prima per far vedere la nuova location perché ci siamo trasferiti da via contrada rocca rossa siamo qua via fontepirre angolo via del lavoro stasera io colgo l'occasione di vero cuore per ringraziare una persona speciale dal cuore d'oro la luan la ditta luan fashion store di giuseppe trapani per aver donato per la seconda volta capi accessori nuovi luan si è preso l'impegno di sostenere questa associazione infatti ogni mese aiuterà costantemente il nostro centro per far sì che noi continuiamo ad aiutare le numerose famiglie che sosteniamo e seguiamo l'associazione amici via navarra è arrivata a sostenere 837 famiglie 93 ragazze in gravidanza di termini merese e dei paesi limitrofi io stasera qua ho a mio fianco una mia amica speciale marzia genovese che lei grazie anche lei abbiamo tutto questo perché lei sta facendo da tramite tra noi e luan il signor giuseppe ora io voglio passare la parola a marzia per spiegare chi è chi è giuseppe tanto buonasera a tutti ti ringrazio ti ringrazio veramente per questo bellissimo gesto perché devo ringraziare ecco ringraziamo insieme ovviamente l'intente in era web tv per le prestazioni quindi per il loro svolgimento di lavoro e sono sempre costanti appunto per tutta la cittadinanza di termini merese oltretutto ringraziamo ecco questo imprenditore giuseppe trapani che giuseppe trapani è un imprenditore importante non soltanto nella fascia di palermo ma anche palermo ovviamente provincia conosciutissimo e lo continuo a definire un uomo da un cuore veramente grande ben due volte come ha già specificato anno media chiara quindi ha fatto delle donazioni quindi ha preso l'impegno per tutte le famiglie bisognose di termini merese ogni mese donerà non soltanto il biglietto ma come vedete qui davanti a noi ci sono accessori in questo caso ci sono ben 50 colli quindi 50 scarpe che non sono usate ma scarpe realmente nuove con tanto possiamo far vedere anche di prezzo cioè questi sono dei gesti che fanno riflettere gesti che possono portare ad andare avanti quindi con un insieme un'unità come questo gesto che ha fatto giuseppe trapani di cui ringrazio tantissimo io il ringraziamento non va a me ma va soltanto a lui sono soltanto un portavoce di questa bellissima esperienza che è iniziata che continuerà ripeto tutti i mesi e che dirvi giuseppe trapani ha sei punti vendita a palermo ripeto e provincia conosciutissimo ma oltre al suo buon fare oltre al mondo del dell'imprenditore la parte più importante è quella di dire che ha un'umiltà e un cuore che non è da poco e che non tutti realmente hanno questo che sia un modo di dare un'informazione o comunque sia un modo di poter parlare a tutti i commercianti che vedranno questo video che sia un buon auspicio e quindi di invogliare anche i commercianti di termini merese nell'aiutare le persone bisognose in realtà di termini e non soltanto di termini magari anche fanno parte comunque degli incordi detto questo vi ringrazio nuovamente ringrazio il volo emittente di mera web tv e ringrazio una chiara ma ringrazio principalmente giuseppe tra i quali io vorrei continuare con i ringraziamenti perché vorrei ringraziare tutti i volontari dell'associazione amici di lavada perché grazie a loro noi possiamo fare tutto questo e poi un grande grazie di cuore va il nostro presidente vincenzo farina il nostro mitico presidente che è un porte saluti per motivi di lavoro non può essere qui abbiamo iniziato a belvedere le persone portavano i vestiti il punto di ritrovo era una panchina da poche famiglie scritte ripeto ora registriamo numerosissime famiglie siamo arrivate lo ripeto 837 famiglie tutto quello che noi facciamo lo facciamo con il cuore perché qua realmente in questa sede il popolo che si dona per il popolo che dire un ringraziamento va anche a voi gli amici di mera web grazie per tutto quello che fate io ripeto di nuovo il ringraziamento alla mia amica speciale marzia grazie come ha detto marzia speriamo che questo sia un esempio un esempio per i tanti commercianti termitani che anche loro nel futuro ci diano una mano perché le famiglie sono tante 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 hanno bisogno di tante cose come dico il mio motto insieme si può solo unendosi per la tenendosi per le mani possiamo sperare un futuro migliore grazie a tutti grazie